Dopo anni finalmente posso togliere dalla mia lista dei desideri dei posti da vedere il borgo di Movada che è qui alle mie spalle finalmente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente riesco a portarvi su Borgo Movada che appunto è da un pezzo che ce l'ho in programma ma non si decideva mai ad uscire e quest'anno finalmente, quest'inverno, complici anche la scarsità di pioggia e neve in montagna sono riuscita a portarvici. Siamo appunto nel lago di Redona, proprio all'interno del lago e Borgo Movada appunto si trova incastonato nella splendida cornice della Val Tramontina che è una meta ideale per gli amanti della natura ci sono una serie infinita di camminate ed escursioni sia a piedi che in bici per chi ama la bici ma vi ricordo in particolare le pozze smeraldine che fanno parte del patrimonio unesco e vi lascio il video quassù che ho già fatto un po' un paio di anni fa mi pare, sì 2020. La storia di questo borgo, Borgo Movada, fino agli anni 50 è quella di un tipico paese montano i cui abitanti vivono di piccole cose sostanzialmente. Nei primi anni 50 però vengono costruite la diga di Ponte Eracli che è poco più a sud rispetto a qui e la centrale di Meduno che modernizzano la valle. L'acqua del fiume Meduna ovviamente inonda tutta la valle e il Borgo Movada viene completamente sommerso insieme ai paesi di Redona Vecchia e Fleur, Fleur non so se si pronunci magari alla francese. Alcuni degli abitanti si trasferiscono a Redona Nuova mentre altri vanno in città, si spostano in città. Uno degli abitanti era Don Basilio, un prete del borgo nato proprio a Movada nel 1898. Negli anni successivi appunto alla costruzione della diga e quindi all'allagamento del paese, quando il lago era basso, giungeva fino qui ai Ruderi a pregare sui muri di sasso sacrificati al progresso e al profitto. Perché vi racconto questa storia? Beh, da qui in realtà la storia diventa un pochino leggenda. Nella valle si sente dire che la notte quando il lago fa comparire i Ruderi delle case si vede Don Basilio intento a sistemare i muri crollati. Questo spiega perché dopo 70 anni sostanzialmente i resti sono ancora in piedi, nemmeno il terremoto del 76 che ha distrutto mezzo Friuli li è riuscito ad abbatterli. Fatemi sapere se credete o meno a questa leggenda. Io sulle leggende non ci scherzerei troppo però. Fatemi sapere se credete o meno a questa leggenda. Per finire vi do qualche riferimento per raggiungerlo, per appunto scendere anche. Il riferimento è il Borgo, che sono due case, di Peccol. E se lo cercate su Google Maps vi conviene inserire albergo ristorante da Febo o comunque una cosa del genere. Se inserite da Febo, Tramonti o Peccol dovreste arrivare nel posto giusto. Per cui ragazzi spero che questo breve video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like e commentate facendomi sapere se conoscevate questa leggenda di Borgo Movada. E se magari avete intenzione di passare di qua sperando di riuscire a vederlo. Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella. In modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per avere aggiornamenti di quello che faccio in diretta. Se appunto vi seguivate sui social sapevate che ero riuscita finalmente a venire qui. Detto questo io vi saluto e come al solito vi do appuntamento al prossimo video dicendovi Have a nice life!